Cristian Pasquato, è una settimana anomala iniziata con il presidente Sebastiani che è venuto da voi a parlare, cosa vi ha detto e poi oggi c'è stato anche un incontro con i tifosi? Sì, c'è stato un confronto col presidente come l'abbiamo fatto anche tra di noi, tra squadra, per capire un po' quali possono essere le problematiche. Credo sia giusto che le cose che vengono dette in spogliatoio rimangano tra di noi, ma io credo che di base problemi non ce ne siano, nel senso c'è un problema di risultato, però le prestazioni forse se non un primo tempo con l'Ascoli un po' in colore, il resto ho sempre visto una squadra viva, anche a Crotone nel 4-1, la squadra ha creato 5-6 pallegol, quindi questo deve farci forza, però non possiamo ogni partita partire in svantaggio perché non è facile recuperare, il momento lo dice chiaramente. Anche i tifosi vi hanno spronato questo oggi? Sì, sì, assolutamente, credo succeda in tutte le piazze e sono arrivati anche qui anche oggi, ma non è successo niente di grave, è stato anche qui un confronto, ci hanno voluto dare il loro appoggio e ci hanno detto di tirar fogli attributi. Sognavi un ritorno a Pescara un po' diverso anche dal punto di vista personale, immagino? Non mi sarei mai aspettato di fare nove partite e non poter mai gioire, questo sì, anche perché la squadra veniva da un periodo straordinario, però siamo qui e quindi siamo molto positivi, guardiamo avanti, sì, siamo comunque nonostante tutto, nonostante essendoci fermati, siamo nei play-off e siamo a tre punti dai terzi e quindi sta a noi, sta a noi, c'è questo mini torneo di dieci partite e noi dobbiamo fare più punti possibili. L'ultima, che squadra è la Ternana che affronterete? Due lo scorso anno a Terni, hai sordito con un gol su punizione se non ricordo male. Sì, mi auguro che il risultato sia diverso e magari anche non segnando di poter vincere, perché l'anno scorso abbiamo comunque pareggiato. La Ternana è una squadra che sta lottando per la salvezza anche loro, hanno 40 punti, però è una squadra quadrata e in casa è una squadra tosta. Come sapete anche voi, l'ho sempre detto, il campionato DB è difficilissimo, lo stiamo vivendo personalmente noi, perché dalle stelle siamo un po' alle stalle, diciamo, però ecco, come ho detto prima, massima tranquillità, non dobbiamo avere paura, perché se no veramente le perderemo tutte.